Scotta e brucia, brucia e scotta con il Raco, questa l'ho cotta. Questo è un video straordinario, andremo a smaltare e a cuocere con la tecnica del Raco due ciotole, una in argilla bianca e una in argilla rossa. Questa argilla bianca è un'argilla bianca da Raco, semirefrattaria della Silla Argille, una azienda che si trova in Toscana, mentre questa qui è un mix. 50% di questa qui della Silla Argille e 50% della pirofila della Colorobbia. Andremo a fare la cottura Raco nel fornetto magico e anche il biscotto di queste due ciotole è stato fatto all'interno del fornetto magico. Che smalti possiamo utilizzare? Possiamo utilizzare tutti gli smalti che già utilizziamo per le cotture a bassa temperatura, quindi quelle che utilizziamo sia sull'argilla bianca o sia sulla rossa per fare maiolica. Per questo pezzo bianco preparerò una cristallina al rame, userò la cristallina, la clattre della Colorobbia, più il 2% di rame e un poco di fritta e vi lascio il link della ricetta in descrizione. Quindi per 100 grammi di cristallino useremo all'incirca 2 grammi di ossido di rame e 5 grammi della fritta della Colorobbia, la FFA1. Mentre per questo pezzo rosso utilizzerò uno smalto giallo della Colorobbia. Vi lascio la sigla nella descrizione. Allora, intanto ho preparato la cristallina trasparente al rame, vi lascio qui sopra il link del video dove preparo gli smalti e ne vado a versare un poco in questo vasetto vuoto dello yogurt, voilà, in modo che sia più facile smaltare il pezzo, anche perché di questa ciotolina bianca voglio solo smaltare l'interno. Quindi io miscelerò un poco lo smalto e lo verserò all'interno, in questo modo, così. Facciamolo fluttuare un pochino e riversiamolo qui nello smalto, in questo modo qui, voilà. La ciotolina in argilla rossa la smalterò invece completamente utilizzando le pinze nello smalto giallo che avevo già preparato, in questo modo, inserisco, tengo qualche secondo, tiro su e scolo, in questo modo qui. Aspetto che si sia asciugato un pochino e la poggio sul tavolo. Nel frattempo che faccio asciugare gli smalti delle ciotoline in modo da decorarli meglio, vado a preparare i due soprasmalti. Un soprasmalto al rame e quindi ossido di rame, voilà, e un soprasmalto rosso. Sto utilizzando uno smalto rosso a piombico della Colorobbia, vado a inserire lo smalto e poi inserisco il CMC gum che ho preparato in precedenza, che si è indurito e fa pure abbastanza schifo se lo lasciate un po' troppo perché essendo un composto organico tende a creare muffe e quant'altro. È comunque utilizzabile, però in teoria non fatene così tanto perché tende a puzzare, fatene un po' meno. Quindi inserisco un po' di CMC e poi vado a inserire l'acqua. Inserisco un po' d'acqua in tutte e due senza esagerare, voilà, e con due pennelli inizio a mescolare. In questo modo qui, uno e due. Una volta che gli smalti si sono asciugati andiamo a decorare con i nostri soprasmalti. In questo modo qui. Prendo anche la ciotolina gialla. E all'interno invece utilizzerò un triangolo. In questo modo qui. Quindi lasciamo asciugare i nostri soprasmalti e poi siamo pronti per infornare nel fornetto magico. Questa in argilla bianca, non essendo smaltato sotto, lo posso poggiare direttamente nel fornetto magico, mentre questo che è completamente smaltato anche sotto, per questo utilizzerò una cosiddetta zampa di gallina che lascerà solo tre puntini sotto la superficie del pezzo. Quindi inserisco la zampa di gallina, inserisco la tazzina Raku e chiudo il fornetto magico. E lo inserisco nel microonde e gli faccio fare una cottura a 800 watt di 35 minuti all'incirca. Allora eccoci, per la fase della cottura è meglio spostarsi all'esterno perché comunque svilupperemo dei fumi, quindi è meglio stare all'aria aperta. E intanto ho impostato il microonde a 800 watt per 35 minuti e lo facciamo andare. E intanto prepariamo il materiale combustibile per la post-riduzione. Allora, per la post-riduzione andrò a utilizzare come materiale infiammabile un semplice giornale e ne metteremo qualche foglio alla base del nostro bidone. E le altre le taglieremo a striscioline, in questo modo qui. In modo poi da lanciarlo nella ciotolina che metteremo nel bidone. Mentre la cottura è ancora in corso vi faccio vedere di cosa avremmo bisogno dopo per estrarre il pezzo dal forno. Allora, sicuramente di un paio di guanti in kevlar o anche i guanti che usano i saldatori, chi lavora il ferro, che si possono trovare nelle ferramente. Poi avremo bisogno di una pinza, questa è una pinza da oreficeria, per togliere la ciotolina dal fornetto magico senza bruciarci. E poi avremo bisogno di un mattone refrattario, come questo, per appoggiare il nostro fornetto magico. E poi, se ce li abbiamo, di un paio di pinze da racco più grandi, per estrarre poi il pezzo dal bidone in cui l'abbiamo inserito. Ma non sono necessarie, possiamo anche usare altri mezzi oppure rovesciare il bidone. Ok, mancano pochi secondi al termine della cottura. Non appena finisce estrarremo il fornetto magico, lo posizioniamo sul mattone refrattario. Apriamo, prendiamo con i guanti, lo posizioniamo qui. Apriamo, con le nostre pinze inseriamo il pezzo all'interno del bidone, spostiamo il fornetto magico e procediamo inserendo un po' di carta all'interno. In modo da far scaturire un altro po' di fumo e ottenere una buona riduzione. In questo modo qui lasciamo un poco alla fiamma e dopo poco inseriamo il coperchio per far sviluppare ulteriore fumo. Dopo 5 minuti di affumicamento bello e buono possiamo togliere il nostro coperchio, il nostro bidone che lo copriva, e prendere la tazzina con queste pinze d'araku, queste più lunghe, e per far terminare subito la riduzione lo immergiamo in questa bacinella piena di acqua. Wow! E quando si sarà raffreddata la possiamo prendere direttamente con le mani. Voilà! Bellissima! Allora eccoci rientrati in laboratorio per vedere i risultati. Allora ho cotto anche l'altra ciotolina con lo stesso metodo di quella gialla. Solo che è venuta veramente una caccata. Si può dire caccata su YouTube? Forse. È uscita veramente brutta. Ve la faccio vedere. Allora ho deciso di rismaltarne un'altra che è uscita spettacolare. Che ho fatto? Non ho decorato con il rosso all'interno e ho allungato di due minuti il tempo di cottura. Perché nella prima prova era uscito un poco crudo. Ed è uscita veramente bellissima. Avete visto come è stato super facile smaltare e cuocere le nostre ciotoline tramite la tecnica del Raku. Oltre ad avere dei risultati molto molto belli è anche molto divertente come tecnica. E la cosa più bella sarebbe farlo insieme, farlo insieme agli amici. Ognuno smalta un oggetto e si cuoce tutto insieme. Chiaramente non c'è bisogno di portare il microonde all'esterno per fare il Raku, ma giusto il bidone. Io l'ho portato all'esterno giusto per comodità, per far vedere tutto il processo. Nella descrizione del video vi lascio un po' di link utili su smalti, terre e quant'altro. E come al solito se vi è piaciuto fatemi un grande favore e condividete questo video. Mettete un like, iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi. Presto un nuovo video sulla costruzione invece di un forno Raku a gas. Ci vediamo prestissimo e come al solito buona ceramica a tutti.